Ci sono numerose ragioni per votare sì al referendum del prossimo 17 aprile e fermare le trivelle. Le ha spiegate oggi nel corso di un incontro a Gera e il deputato regionale di Diventerà Bellissima Nello Musumeci. In Italia ha detto che il nostro governo deve investire da subito su un modello energetico più rinnovabile, distribuito e democratico già affermato nei paesi più avanzati del nostro pianeta. Quanti morti, quanti calvari, quanti gridi di dolore non sono stati raccolti? Io mi chiedo, è mai possibile che nessuno abbia avuto il coraggio di alimentare, di seguire il registro per esempio delle patologie tumorali? È mai possibile che attorno a queste iniziative debba continuare a restare il silenzio più assoluto? Questo vale per Gela, ma vale per l'area siracusana, vale per l'area del Milazzese. Basta, il petrolio è stata una stagione. Felice, infelice, lo si vedrà nel tempo. Certo è che la Sicilia ha bisogno di un modello di sviluppo compatibile. Dobbiamo pensare alle energie pulite, alle energie rinnovabili. Dobbiamo pensare a qualificare l'agricoltura e a renderla compatibile con il turismo. Dobbiamo pensare ad assorbire nuova manodopera. Dobbiamo pensare a far rientrare i ragazzi che sono usciti. Tutto questo non è un miracolo, non dobbiamo inseguire i miracoli. Dobbiamo soltanto essere nelle condizioni di avere il coraggio di cambiare pagina. E quindi non può né Renzi né Crocetta, che è scritto nel libro paga politico dei petrolieri, nessuno dei due può pensare ancora di venire a dire non andate a votare per il referendum, tanto non vale. Fermiamo le trivelle. L'invito esplicito giunge da Fabio Granata. L'importante è partecipare a questo referendum che è su due questioni essenziali. Una è quella tecnica, stoppare uno sfruttamento insensato delle risorse ambientali che non danno alcun apporto al fabbisogno energetico nazionale. Si parla dell'1%. Dall'altra parte c'è un referendum su una certa idea dell'Italia. Noi vogliamo un'Italia diversa che fuoriesca dal fossile e che sulla rigenerazione industriale e sulla agricoltura, sulla pesca rilancia un nuovo modello di sviluppo.